Per il suo cane le prescrive un prodotto probiotico che è anche un simbiotico, contiene fermenti lattici ma contiene anche ceppia d'azione probiotica che non sono fermenti lattici e contiene anche i prebiotici. Questa è una frase che potrei dire alla fine di una visita o di una consulenza veterinaria consigliando un prodotto specifico per quel cane o per quel gatto ad un proprietario. Probabilmente non ci avete capito nulla ed è perfettamente normale, nonostante la frase sia logica e non sia insensata. La riprenderemo alla fine di questo video e cercheremo insieme di capire che cosa ho detto in questa frase. Il motivo per cui ci avete capito ben poco deriva dal fatto che spesso c'è una grande confusione tra diversi termini legati al benessere del microbiota intestinale. Questi termini sono fermenti lattici, probiotici, prebiotici e simbiotici. Vedendo spesso persone che danno un prodotto pensando di darne un altro, ho deciso di fare questo video, un video in cui analizzerò le definizioni di queste quattro categorie di prodotti cercando di mettere dei paletti e di distinguerle tra loro, soprattutto per evitare che qualcuno di voi acquisti un prodotto per il proprio cane o per il proprio gatto che non fa parte della categoria che pensava di aver acquistato. Questa confusione tra l'altro è perpetuata dalle etichette dei prodotti che spesso non sono così chiare su cosa contengono, dagli articoli che si possono trovare su internet e anche dalle parole un po' magari superficiali di professionisti sanitari come ad esempio i medici in umana o i medici veterinari e questo sicuramente non aiuta a fare chiarezza su quello che è un argomento che potrebbe sembrare semplice ma in realtà è molto molto complesso come vedremo. In questo video andremo a vedere quindi cosa sono queste quattro tipologie di prodotti, a cosa servono, quando servono e quando non servono a nulla. Buongiorno a tutti, io sono il dottor Valerio Guigi, medico veterinario, specialista in ispezione degli alimenti e nella mia attività mi occupo di alimentazione e nutrizione del cane e del gatto. Iniziamo dal termine probabilmente più famoso e utilizzato, quello di fermenti lattici. La definizione fermento lattico è una definizione un po' impropria perché in pratica ognuno la fa corrispondere più o meno a quello che vuole. Cercando un po' tra le fonti scientifiche ho trovato che la definizione specifica che si avvicina di più a quella che generalmente si intende con fermenti lattici quando si trova scritto da qualche parte è quella di batteri acidolattici. I fermenti lattici sono un grande gruppo di batteri composto da molti generi diverse e molte specie diverse che hanno in comune alcune caratteristiche, caratteristiche a dire il vero piuttosto generiche. Per esempio si tratta di batteri gram-positivi, non sporigeni, anaerovi o microaerofili e più o meno tolleranti all'acidità. È una definizione che per chi non si occupa di microbiologia può lasciare un po' spiazzati ma in realtà è molto molto ampia e contiene tantissimi batteri diversi. In particolare si inseriscono all'interno della definizione di batteri o acidolattici i generi batterici che vedete in sovrimpressione. La caratteristica comune di tutti questi generi batterici è la capacità di fermentare i carboidrati, carboidrati di diversa natura e di ricavare energia per la loro sopravvivenza anche in condizioni in cui l'ossigeno dell'aria non è presente. I carboidrati che questi batteri sono in grado di fermentare sono tanti e comprendono il comunissimo glucosio, il galattosio e anche il lattosio che è un motivo per cui diversi generi di batteri lattici si possono trovare appunto nel latte che viene secreto dalle varie specie animali. Oltre a poter fermentare i carboidrati sono in grado anche di idrolizzare le proteine cioè di spezzare le proteine che trovano nell'ambiente in cui vivono, ridurle ad aminoacidi come farebbe lo stomaco di un cane o di un gatto e utilizzarle per le loro specifiche esigenze di sopravvivenza e di moltiplicazione. Una caratteristica comune dei fermenti lattici, che poi è quella che dà loro il nome, è che riescono a produrre come metabolita in uscita dal loro metabolismo l'acido lattico che può essere o il loro metabolita esclusivo, cioè dopo aver utilizzato i carboidrati per assumere energia buttano fuori solamente acido lattico e in questo caso si parla di fermenti lattici omofermentanti oppure può essere uno dei diversi prodotti che sono in grado di produrre. Altri sono ad esempio l'acido acetico, una delle componenti dell'aceto, l'anidride carbonica o l'alcol etilico o etanolo, a seconda delle specie. Se la specie batterica è in grado di produrre anche metaboliti diversi dall'acido lattico si parla di batteri eterofermentanti. E qui arriviamo alla prima distinzione, quella tra fermenti lattici e microorganismi ad azione probiotica. I fermenti lattici sono quei batteri che sono compresi nelle famiglie che abbiamo menzionato prima e possono essere anche microorganismi ad azione probiotica, vedremo dopo cosa sono i microorganismi ad azione probiotica, ma possono anche non esserlo. Per cui possono fermentare i carboidrati, produrre l'acido lattico, ma non portare alcun beneficio nell'intestino di un cane, di un gatto o di una persona. È il caso, per esempio, di quelle specie batteriche che vengono utilizzate in tecnologia alimentare per avere le fermentazioni e produrre i vari tipi di alimenti fermentati. Certo, ci sono anche alcuni fermenti lattici che hanno le caratteristiche dei microorganismi ad attività probiotica, per cui alcune specie possono far parte sia del gruppo dei fermenti lattici che del gruppo dei microorganismi ad azione probiotica. Ci sono infine dei microorganismi ad azione probiotica che non sono fermenti lattici. Un esempio sono alcuni funghi appartenenti al genere Saccharomyces che sono in grado di portare un effettivo miglioramento all'intestino di un cane o di un gatto, ma allo stesso tempo non fanno parte della categoria dei fermenti lattici. Gli alimenti che contengono fermenti lattici sono diversi, perché sono contenuti nello yogurt, nel kefir e in misura minore anche in diversi vegetali. Ma se un alimento contiene dei fermenti lattici, non si può parlare di effetto probiotico se non si fa un'altra serie di considerazioni. Per cui i fermenti lattici possono essere presenti all'interno di un alimento, ma di fatto potrebbero morire tutti nello stomaco del cane o del gatto e di conseguenza non apportare alcun beneficio. Fate quindi attenzione quando li utilizzate come prodotti terapeutici. Se il vostro cane o il vostro gatto soffre di una patologia, probabilmente non basta che un alimento o un integratore contenga dei fermenti lattici, ma deve avere un effetto probiotico. E qui passiamo alla seconda definizione. I probiotici, dalla FAO, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, vengono definiti come microorganismi vivi che somministrati in quantità adeguata apportano un beneficio alla salute dell'ospite. Si tratta anche in questo caso di una definizione che, come possiamo vedere, è molto vaga. Per questo motivo il Ministero della Salute Italiana l'ha resa un pochino più stringente per poter mettere in commercio dei prodotti probiotici. Nelle linee guida del Ministero della Salute troviamo che per poter definire un prodotto alimentare, un prodotto probiotico, deve rispettare queste specifiche caratteristiche. Essere utilizzati tradizionalmente per integrare il microbiota intestinale umano. In altre parole, bisogna conoscere con certezza le specie batteriche che sono contenute all'interno di quell'alimento e che devono anche essere indicate sulla confezione del prodotto. Essere considerati sicuri nell'impiego per l'uomo ed essere attivi a livello intestinale in quantità tale da potersi moltiplicare in quella sede. Una definizione un pochino più stringente di cui voglio farvi notare due particolarità. La prima è che il probiotico non è il ceppo batterico o il ceppo fungino in sé, ma è il prodotto alimentare, cioè quello che materialmente si mette in bocca o si mette nella bocca del cane o del gatto. Quindi, a differenza del fermento lattico, che era un gruppo di specie batteriche, microrganismi che possono appartenere a specie diverse, generi diversi, ma anche regni completamente diversi, ad esempio quello dei batteri e quello dei funghi, possono avere delle caratteristiche che migliorano in qualche modo il benessere dell'intestino. Quindi avere quelle che si definiscono caratteristiche probiotiche. Però questi microrganismi, per avere un prodotto probiotico, devono essere inseriti in un contesto che sia nel complesso probiotico. Ovvero, per esempio, devono essere in una certa quantità. Mangiare un solo microrganismo ad azione probiotica, che probabilmente rimane in bocca o muore nello stomaco, non fa di un prodotto un prodotto probiotico. La seconda particolarità che voglio farvi notare, e che ho enfatizzato mentre dicevo la definizione, è che nel documento del Ministero della Salute si parla di uomo. Infatti, al momento, i probiotici in mangimistica non sono definiti, e vengono definiti solamente come prodotti specifici per l'alimentazione umana, e non per l'alimentazione del cane, del gatto o delle altre specie animali. In mangimistica, cioè nelle normative che regolano gli alimenti per i cani e per i gatti, i probiotici fanno semplicemente parte degli alimenti, e in particolare vengono definiti additivi. Per questo, i prodotti che li contengono vengono definiti, al pari dei croccantini o delle scatolette, alimenti completi o alimenti complementari per il cane o per il gatto. Generalmente, i probiotici per cani o per gatti sono forniti sotto forma di piccola integrazione, per cui sono forniti sotto forma di alimenti complementari, che hanno degli additivi. Questi additivi sono i probiotici. Al momento, però, esiste un solo ceppo probiotico autorizzato per l'alimentazione del cane e del gatto, che è l'enterococcus facium, come si può vedere dal documento ufficiale dell'Unione Europea che autorizza i vari additivi, e lo troviamo infatti tra altri additivi, come ad esempio i coloranti o i conservanti. Questa è una grossa limitazione nell'utilizzo dei probiotici nel cane e nel gatto. Una limitazione che abbiamo a causa soprattutto dell'antibiotico resistenza, ma che porta moltissimi, sia veterinari che persone comuni, ad utilizzare dei probiotici ad uso umano anche nell'alimentazione del cane e del gatto per la risoluzione di varie patologie. Però, però, però... L'operazione di scelta di un probiotico umano da utilizzare nell'alimentazione del cane e del gatto non deve essere fatta alla leggera, perché se per i probiotici umani ci sono comunque degli studi di sicurezza che vengono fatti dall'autorità europea per la sicurezza alimentare sui ceppi che sono presenti all'interno, nel cane e nel gatto non abbiamo questi studi. Ora, si assume che se il batterio è sicuro per l'uomo lo sarà molto probabilmente anche per il cane e per il gatto, ma c'è anche un altro problema da affrontare. I ceppi probiotici che si sono dimostrati utili nell'alimentazione umana per supportare certi tipi di patologie funzionano anche nelle patologie del cane e del gatto? A volte sì e a volte no. Prima di tutto, il numero di probiotici da utilizzare nel cane e nel gatto è diverso rispetto al numero che si utilizza nell'uomo. In particolare, per i diversi ceppi nel cane e nel gatto si stima un numero giornaliero di unità formanti colonia che deve essere fornito all'animale che va da 10 alla 8 a 10 alla 11 unità formanti colonia. Se questi microorganismi di azione probiotica sono troppo pochi, probabilmente non avremo alcun supporto nella funzione intestinale. Inoltre, c'è da considerare che questi batteri devono arrivare vivi all'interno dell'intestino del cane e del gatto, altrimenti ci troviamo il solito problema. Non funzionano. Ma soprattutto bisogna sapere se quello specifico ceppo o quegli specifici ceppi che hanno mostrato un'azione probiotica nell'uomo ce l'hanno anche nel cane e nel gatto. E come si può fare? Beh, attingendo alla letteratura scientifica. È una delle cose che fa un medico veterinario che si occupa di nutrizione o che si occupa di gastroenterologia. Conoscere i vari ceppi e soprattutto conoscere in quali patologie si sono dimostrati utili e in quali patologie non sono servite a nulla nel cane e nel gatto è il punto fondamentale per poter scegliere un probiotico che funzioni all'interno della loro alimentazione. Vi mostro due studi scientifici come esempi. Questo è uno studio scientifico in cui sono stati presi tre ceppi batterici che sono anche fermenti lattici perché sono lattobacilli ad azione probiotica sono stati somministrati a cani in una certa quantità e hanno mostrato di avere un effetto positivo nelle diarree acute e nelle diarree intermittenti. Quest'altro studio scientifico invece ha preso un ceppo batterico, l'enterococcus fesium ha provato a utilizzarlo con un gruppo di controllo a cui era stato fornito del placebo per risolvere un'altra patologia del cane che era in particolare la giardia e qui il placebo e il probiotico hanno fornito lo stesso effetto, ovvero nessuno. Questo significa che quella particolare specie batterica non sembra avere efficacia nel trattamento di quella specifica patologia. Questi due studi sono solamente degli esempi che permettono a grandi linee di capire che la scelta dei probiotici non è per niente banale anzi è una cosa molto 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 difficile anche in virtù della poca letteratura scientifica che al momento abbiamo a disposizione purtroppo. Ma è allo stesso tempo abbastanza complessa da richiedere comunque l'intervento del medico veterinario che al meglio conosca la patologia che ha colpito quello specifico cane o quello specifico gatto. Concludendo quindi la definizione di probiotici, il probiotico è un prodotto che è utile nel migliorare la salute, soprattutto intestinale, ma non solo, del cane e del gatto purché però si rispettino alcune caratteristiche. La prima, i ceppi ad azione probiotica contenuti devono essere vivi ci sono anche dei prodotti in cui ci sono dei ceppi ad azione probiotica ma sono tindalizzati, ovvero trattati con il calore questi prodotti chiaramente non si possono definire probiotici La seconda, il ceppo o i ceppi contenuti all'interno di quel prodotto devono essere utili per quella patologia come abbiamo appena visto Inoltre, se c'è più di un ceppo, non devono andare in competizione tra loro per le sostanze nutritive quindi anche in relazione a quello che il cane o il gatto mangia altrimenti iniziano a farsi la guerra e alla fine non sono serviti a nulla La terza è che bisogna fare attenzione che nel prodotto, oltre ai microrganismi sono presenti anche dei diecipienti e questi eccipienti in qualche modo potrebbero dar fastidio a uno specifico cane o a uno specifico gatto per cui vanno comunque scelti anche con questo tipo di attenzione Passiamo quindi alla terza definizione, un nome molto simile ma che sta ad indicare prodotti completamente diversi sono i prebiotici La definizione di probiotico e di prebiotico è molto 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 diversa perché se il probiotico è un prodotto che contiene dei microrganismi il prebiotico è un prodotto che contiene solamente il nutrimento per questi microrganismi quindi il prodotto prebiotico non contiene microrganismi Il prebiotico viene definito come un costituente degli alimenti non vitale che conferisce un beneficio alla salute mediante la modulazione del microbiota Il prebiotico chiaramente non deve essere assorbito dall'animale, quindi dal cane o dal gatto perché deve arrivare integro dove sono i microrganismi perché lo devono chiaramente mangiare loro e per questo dal punto di vista strettamente mangimistico i prebiotici fanno parte della fibra di cui abbiamo parlato in un precedente video Il cane e il gatto hanno un'alta capacità di digestione dei nutrienti che derivano dagli alimenti di origine animale, per esempio le proteine o il grasso Per questo motivo i prodotti prebiotici sono, nella stragrande maggioranza dei casi, prodotti di origine vegetale I prebiotici non hanno una struttura fissa e ben definita ma la maggior parte di loro sono dei carboidrati Carboidrati particolari perché sono carboidrati che né il cane né il gatto hanno gli enzimi in grado di digerire Uno degli esempi classici di prebiotico è questa molecola, l'inulina, un oligosaccaride cioè un polimero composto da pochi atomi di zucchero ripetuti tra loro e legati insieme con un legame, che in questo caso è il legame beta-1,2-glicosidico che gli enzimi del cane e del gatto non possono spezzare quindi loro non possono assorbire questi zuccheri ma i batteri lo possono spezzare e li possono assorbire di fatto crescendo e moltiplicandosi La particolarità dei prebiotici è che non tutti i microrganismi sono in grado di utilizzare quegli specifici prebiotici Questo significa che fornendo uno o l'altro prebiotico è possibile favorire la crescita di una certa specie batterica o di un'altra specie batterica lasciando a bocca asciutta le altre Per cui favoriamo la crescita selettiva di alcuni specifici ceppi che pensiamo possano portare un beneficio nella salute del cane e del gatto Come già visto per i probiotici, ad essere prebiotico è il prodotto e non la singola sostanza prebiotica Questo significa che all'interno di un prodotto prebiotico devono essere presenti sostanze prebiotiche in una certa quantità, tale da avere un qualche effetto sull'intestino nel senso che di sostanze prebiotiche ne troviamo spesso in qualunque tipo di alimento compresi i croccantini ma al solito dipende da quante ce n'è se ce ne sono troppo poche il loro effetto sarà blando Come abbiamo già detto prima, inoltre per le sostanze prebiotiche è utile sapere quali sono le sostanze prebiotiche perché ne esistono tantissime tipologie e soprattutto quali sono i ceppi batterici di cui sono in grado di stimolare la crescita altrimenti rischiamo di dare dei prodotti prebiotici per popolazioni che nell'intestino magari non ci sono per cui non favoriamo assolutamente nulla Perché un prodotto possa essere considerato prebiotico secondo il Ministero della Salute deve avere una quantità di sostanze prebiotiche plausibili per svolgere il loro effetto secondo le evidenze scientifiche disponibili ovvero se non ci sono fonti scientifiche sul fatto che un certo prebiotico funzioni la sostanza in esso contenuta non si può considerare prebiotico Infine, l'ultima classificazione di prodotti meno comuni per adesso ma che probabilmente vedremo aumentare sempre di più nei nostri anni sugli scaffali delle farmacie sono i simbiotici Un simbiotico, in modo molto semplice, è definito come un insieme di prebiotici e probiotici che influenzano positivamente l'ospite migliorando la sopravvivenza e la colonizzazione da parte dei microorganismi vivi nel tratto intestinale Il principio di funzionamento è semplicissimo si tratta di mettere insieme dei ceppi probiotici e delle sostanze prebiotiche in un unico prodotto in modo che quando il cane o il gatto lo mangia li assuma entrambi Il vantaggio di fare una cosa del genere è abbastanza evidente metto dentro il microorganismo che voglio che cresca e ci metto anche il suo cibo all'interno per cui gli metto tutto quello di cui ha bisogno per proliferare al meglio è quello che in farmacologia si chiama effetto sinergico ovvero fornendo entrambi i prodotti insieme ho un risultato maggiore di quello che avrei fornendo singolarmente in giorni separati chiaramente il prodotto prebiotico e il prodotto probiotico e non è difficile da capire gli studi scientifici sui simbiotici essendo prodotti piuttosto recenti non sono al momento così tanti ma sicuramente aumenteranno nei prossimi anni e probabilmente in futuro sentiremo molto più parlare di simbiotici rispetto a quanto sentiamo fare adesso e quindi tornando alla frase iniziale quella complessa adesso che abbiamo capito la differenza tra fermenti lattici probiotici, prebiotici e simbiotici cerchiamo di capirla e vedere che per quanto complicata l'avessi formulata non è illogica e soprattutto conoscendo le definizioni non è nemmeno difficilissima da capire per il suo cane le prescrive un prodotto probiotico che è anche un simbiotico ovvero che contiene sia il probiotico che il prebiotico come ho scritto alla fine che contiene fermenti lattici cioè contiene alcuni batteri che fanno parte delle specie la cui lista abbiamo visto all'inizio del video ma contiene anche ceppia d'azione probiotica che non sono fermenti lattici perché contiene magari un fungo del genere Saccharomyces che ha azione probiotica ma non è un fermento lattico il prodotto che ho prescritto per quell'ipotetico cane è quindi un simbiotico bene, io spero di aver fatto un po' di chiarezza riguardo alle definizioni di prodotti che a tutti gli effetti sono complicati perché sono vaghe poi oltretutto vengono complicati ulteriormente dal fatto che si fa un po' di confusione anche nel parlare tra un prodotto e un altro e questo rende ancora più difficile la comprensione dell'insieme inoltre spero di avervi anche fatto capire che la scelta di un prodotto probiotico di un prodotto prebiotico non è affatto semplice nemmeno per un medico veterinario per cui bisogna approfondire molto quelle che sono le patologie del cane o del gatto per cui si ritiene che possa essere utile prescrivere uno di questi prodotti e soprattutto è importante che venga scelto quello giusto che abbia dimostrato dal punto di vista scientifico di avere un valore in quella specifica patologia amici di cane.it voi che cosa ne pensate? vi eravate mai posti il problema delle differenze tra questi quattro termini? lo conoscevate? e soprattutto visto che il video è abbastanza complicato adesso ci avete finalmente capito qualcosa? fatemelo sapere qui sotto nei commenti di youtube o nei commenti di facebook se state guardando il video su facebook e vi ricordo che se siete interessati a una consulenza nutrizionale o una dieta casalinga formulata direttamente da me trovate tutti i recapiti qui sotto se siete su youtube qui sopra se siete su facebook io vi ricordo anche di iscrivervi al canale youtube e alla pagina facebook di cane.it su cui sporadicamente facciamo delle dirette a tema alimentazione e nutrizione del cane e del gatto e vi ricordo che per qualsiasi domanda avete a disposizione la sezione delle domande di cane.it anche per domande non inerenti all'alimentazione detto questo io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo